Ciao a tutti, oggi mia figlia Claudia vi farà vedere un bel giochino da fare con i vostri bimbi basato su una reazione chimica, quindi un vero e proprio esprimento scientifico che noi abbiamo chiamato la mongolfiera. Per farlo avrete bisogno di una bottiglietta con due dita d'acqua, dell'acido citrico, del bicarbonato di sodio, un palloncino sgonfio e degli imbutini che vedrete vi potranno essere utili. Quindi per prima cosa la dieta metterà dell'acido citrico dentro alla bottiglietta d'acqua. Un cucchiaino va bene. Agiterà la bottiglietta per farlo sciogliere. Poi prenderà il palloncino e sempre aiutandosi con l'imbutino ci verserà dentro un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Adesso facendo attenzione di non rovesciare il palloncino, Claudietta dovrà attaccarlo alla bottiglia. Una volta che è attaccato bene, fissato bene al collo della bottiglia, lo capovolgi ed ecco qui che il nostro bicarbonato di sodio va a contatto con l'acqua in cui era disciolto l'acido citrico, avviene una reazione chimica, ovvero le due sostanze reagiscono, non avremo più né una né l'altra, si formerà il citrato di sodio e un gas che è l'anidride carbonica che appunto farà gonfiare il nostro palloncino. Et voilà la vostra mongolfiera. Grazie a tutti.